Musica Ciao a tutti ragazzi, io sono Merlocraft e oggi siamo qui in un nuovo episodio del nostro Let's Play Moddato E oggi ragazzi, che cosa ho in programma, che cosa ho in programma Nell'ultimo episodio abbiamo cominciato questa fantastica mod che è la Towncraft E abbiamo cominciato a farla in questo posto qui Che però, eh, non è che sia tutto sto granché come posizione Perché qui vorrei fare altre cose Allora, ho deciso di crearci una base vera e propria per la Towncraft E dove ho deciso di crearla? Guardate, qui c'è un buco Qui c'è un tunnel che, come vedete, è ancora un po' È ancora leggermente work in progress, ma molto leggermente E poi, ovviamente, in questo episodio sarà un episodio di costruzione Quindi renderemo tutta questa cosa più bella, più sexy, eccetera, eccetera Ma intanto facciamo così, così, così Non così, ma così, così E così, così almeno sembra già un po' più tunnelosa Spacchiamo questo Qui siamo, qui c'è il nostro portale Neller Che probabilmente muteremo con un Sound Muffler Perché rompe veramente le palle E qui dovremo mettere delle facade E ad ogni modo per cui si scende E qui dietro c'è il nostro Safe Factory Manager per gli Inscriber Abbiamo questo piccolo tunnel E arriviamo nella zona che voglio usare Ho creato questo blocco qua, che è una Building Guide Vedete che mi ha aiutato a creare questa forma Che è una circola, una specie di cupola Qui ci sono, mancano dei blocchi Ma tanto poi comunque li rimpiazzeremo Ma va bene così E voglio creare qui la nostra base Town Craftoso A questo possiamo riprenderlo E vi farò vedere mano a mano che la costruirò Che cosa voglio fare Perché non è qui comunque, è dentro questa montagna Vi farò vedere mano a mano Cosa voglio fare, i blocchi che voglio utilizzare eccetera Però la prima cosa che voglio creare È craftarmi uno strumento che mi sarà molto molto utile E voglio utilizzare la Town Craft per craftarlo Quindi ricerchiamo i nostri primi Wand Focus Allora andiamo a vedere dove sono Sono qui Wand Focus Ok, ricerchiamo Anche questa è stata una ricerca molto complicata Noi ma dobbiamo ricercare i nostri Wand Focai E adesso possiamo ricercare questo Che è quello che voglio Boom Uh Et voilà abbiamo ricercato questa One of equal trade Boom E adesso Ok, piccolo momento di panico Di scarrimento di voce Ma comunque adesso possiamo craftarla Ci serviamo Uh, 4 balanced shard Uh Uh Quindi serviamo 8 di ogni aspetto Mmm E una shard 8 di ogni aspetto e una shard Um Ok ragazzi Credo di aver capito una maniera abbastanza conveniente di crearlo senza inquinare troppo l'ambiente qui Perché allora vi faccio vedere Intanto gettiamo 8 di ogni shard Qui dentro E abbiamo 7 balanced shard Non so perché ne ho fatte 7 Però va bene così E poi ti ricordo Dicendo questo dovrebbe darci del taumium No Allora ho fatto su un casino Pazzo Cobblestone Cobblestone vieni a me Ecco vedete Questa è una cosa È uno dei motivi per cui voglio Crearmi un'area apposta per la towncraft E perché Insomma Molte delle volte Io Soprattutto io Faccio questi casini E si Si Comunque adesso abbiamo Un sacco di cose Qui dentro E tecnicamente Se gettiamo del ferro Dentro adesso dovrebbe darci del taumium Solo che non so perché prima non me l'adatto Quindi prendiamo del ferro Perché il taumium Ah perché non l'abbiamo ancora ricercato Giustamente Giustamente anche dico Quindi ricerchiamo il taumium velocemente Prima che questa cosa vada un po' tutto a fanculo E bene Ah non abbiamo più Non abbiamo più foglie di carta Quindi vabbè Lasciremo semplicemente questo a bollire E fine Lo faremo così Tanto lo compriremo presto Quindi vabbè E poi ci servirà del quicksilver Ed 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 il nether quartz Quindi prendiamo del quicksilver E come Cristo si chiama Sinnavaror Questo qui Questo è un pezzo Grazie E poi prendiamo del 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 Nether quartz Che ne ho preso un bel post Ho andato a fare un po' di mining Tra i episodi Perché è uno dei blocchi Che voglio utilizzare Per costruire la nostra base towncraftosa Quindi Sbam Dove cane È Qui Ho fatto un po' di shard in più Però va bene Così le terremo Da parte E possiamo fare così Così Sperando di avere abbastanza aspetti Nella nostra bacchetta magica Yes Nice 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 Ed ora possiamo fare così Ed avremo il nostro wand Of equal trade E vi spiegherò poi a cosa serve Ad ogni modo Intanto Andrò a costruire un po' La nostra base E vi direte cosa ne pensate Allora Ecco i due blocchi Che voglio utilizzare Voglio utilizzare un bel po' di void stone Questa qui Quindi Sbam Facciamone più che possiamo Facciamone uno stack Per intanto Uno stack ai 16 Va bene Così E poi voglio utilizzare Dei Technical block No Erano Vabbè So come si craftano Comunque quindi Questa è andesite Cazzo non è stone Ci serve della stone Quociamo della stone Andiamo qui a quoccerle automaticamente Così poi entreranno nel sistema Da sole Qui sto quoccendo del ferro Del ferro Perfetto Ok Grimstone Eccola qua Questa si chiama grimstone Ed è un altro blocco Che voglio utilizzare In più voglio anche prendere Del nether quartz Non dell'andesite Ma del nether quartz Farlo in blocchi Boom Bala boom E cuocere questi blocchi Per prendere del burnt quartz Che è anche un blocco Che mi tira tantissimo E l'ultimo blocco Di cui ho bisogno È Oh Della skystone Quindi prendiamo anche questa Uno stack E cuociamo anche questa Appena possiamo Ragazzi quanto è bella La texture del burnt quartz È bellissima Mi piace tipo un sacchissimo Ne userei a centinaia È troppo bello dai Burnt quartz Ok ragazzi Siamo tornati E come potete vedere Mi sono messo Un poco al lavoro Questo sarà Il look generale Che voglio dare A questa stanza Insomma il viola È il colore principale Seguito da questo grigio E da questo nero Poi non so ancora Come voglio fare i muri Un'idea che avevo Era di fare una cosa così Di fare dei pilastri Di burnt quartz Che si incrociano Sul soffitto Così per esempio Vedatemi il burnt quartz Tipo una cosa così Solo che mi sono reso conto Che mi serviranno Molti 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 più blocchi Di quanto non mi aspettassi Insomma perché Ce ne vogliono veramente moltissime Quindi dovrò fare Un po' più più grindaggio Insomma Passerò molto tempo Off camera A grindare blocchi O comunque A Buodonna come sei entrato A cercare di prendere blocchi Che mi Che mi servono Ecco Allora qui Devo fare così E poi così Insomma fare questi Questi pilastri Che si incrociano nel centro Era la mia idea principale Fare una cosa così Hop E poi farli anche Da tutte e quattro le parti E poi intorno Fare voidstone O comunque qualcosa Però la voidstone Costa ragazzi Perché costa enderpearl E quindi Sì Dovrò grindarne un po' Che devo fare un po' di lavoro E ad ogni modo Mi servirà anche Che anzi La prima cosa che andrò a fare Andare a prendere Un bel Cazzo di notte Un bel po' Più di E Di 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 Non mi viene il nome Di skystone Della roccia dei meteoriti Solo che non si può accortare Si può prendere solo dei meteoriti Quindi Sì Dovrò un po' andare a cercare i meteoriti Quindi Dovrò fare tantissimo lavoro Ci vediamo quando ho un bel po' di progresso Per il resto non so se avete notato Lì sotto Ho anche portato Il Ho portato Il Capito Il controller Da casa nostra Ho preso un'altra linea Del controller Ho portato un terminal E abbiamo otto canali da utilizzare anche lì Per automatizzazioni O cose varie Insomma Buono Ok Be right back Ok ragazzi Un bel po' di tempo è passato Vedete che ho preso Un bel po' di voidstone Me ne sono rimasti 6 qui Ad ogni modo Ne abbiamo un sacchissimo Abbiamo solo 14 enderpearl Come vamo prima Perché ho utilizzato solo le enderpearl Che ho preso grindando Sono passati 3-4 notti Preso E ho preso All'incirca 2 stack Da 16 di enderpearl E ad ogni modo Prendiamo la nostra bacchetta magica Qui Boom Che voglio far vedere una cosa E questa merda qui Boom E facciamo così E vi faccio vedere la wand of equal trade A che cosa serve Allora praticamente Noi ora Prenderemo un pezzo di voidstone da qui E ci vedete che ne abbiamo 390 E dopo di che facciamo così E lui ci switcherà automaticamente La cobblestone Con E la voidstone Il problema è che E se Ah Ups 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 Ne ho fatta un po' troppa Qua E dovremmo rimpiazzare qua Comunque per fare le cose Grandi Insomma È una buonissima Amica qui Non ho più energia Nella bacchetta magica E vabbè Ad ogni modo È solo una cosa abbastanza carina Volevo farvela vedere E non ho spazio neanche nell'inventario Per togliere il focus Quindi se Devo buttare via un po' di cose Qui appunto come dicevo prima Ho portato il terminal Mettere via un po' di cose Tipo questo 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 E Apple dammele Perfetto Allora 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 Vediamo se sto cocendo intanto Degli skystone block Ok No 70 Se stanno ancora cocendo Un po' Vedete che abbiamo Ho un bel po' di skystone E Sì Will be right back Comincerò a costruire Qui un po' E quando avremo qualcosa Di molto figo Ci farò sentire Ragazzi Ho avuto un'idea Vedete questi Amber block Che ho nell'inventario Sono bellissimi Hanno un solo difetto Ovvero Intanto ci si vede attraverso Una cosa che non avevo notato Quindi dovremmo fare una cosa così Un Il difetto che vi dicevo È che non emettono luce Perché secondo me Sarebbero delle lampade perfette E allora Come facciamo? Prendiamo dei carpenter's block E della glowstone dust E vedete che noi possiamo fare così Paff Poi così E questo Non possiamo Su serio? Non possiamo? Oh Su serio? Allora Useremo la seconda opzione Che avevo in mente Che è Semplicemente Di prendere La glowstone dust Fare così E fare così E sì Saranno delle lampade fantastiche Però Avrei preferito fare Quello che stavo facendo prima Però Ehi Non si può Quindi Amen Ok Diret back Ok ragazzi Eccoci qua Sto mettendo gli ultimi tocchi finali Vedete come vi volevo far vedere prima Se io metto un carpenter's block Poi un blocco E poi shift E la glowstone Qui si fa della luce Sto solo mettendo le ultime luci Ma ecco come Sarà la nostra Stanza Qui Poi Devo fare ancora le scale So tutto qui da fare Però ho finito la voidstone Perché Ce n'è voluta veramente tantissime Ragazzi Per fare tutto questo soffitto E quindi sì Devo solo Devo solo finire Di mettere alcuni Alcuni pezzi qui di Di glowstone in giro Per il mondo E poi avrò finito Quindi sì Spero che questa build Vi piaccia Spero Perché a me piace Sinceramente moltissimo Penso che mi sia venuta Molto bene E anche in non troppo tempo Devo dire Mi sarei aspettato che ci Mi aspettavo che ci volesse di più Ecco Però sì Ora comincieremo a spostare Le nostre cose towncraftose Qui dentro E comincieremo a fare La nostra towncraft qui E poi off camera Comunque nei prossimi episodi Farò il tunnel E tutto il resto Ad ogni modo La nostra area towncraft È completa Boom Che resto ragazzi Voglio fare una cosa Della quale mi sono Appena appena accorto Ovvero Prendere questi Nostri scribing tools E andare alla nostra Mana pool E gettarli Qui dentro No Mana infusion Scribing tools Ah devono essere pieni Di durabilità Quindi ricarichiamoli E poi facciamoli Perché praticamente Invece che ricaricare Questi scribing tools Vedete che perdono Un po' di durabilità Per recuperarla Dovremmo Ricaricarli Con del Inchiostro Adesso vedete Li faccio così Poi prendo Del Inchiostro Faccio così E vedete che diventano Pieni nuovo Solo che L'inchiostro Non è esattamente Facile da farmare Ecco Mentre Se noi facciamo Diventare queste cose Dei nostri Botanigist Inquel Quindi Prendiamoli Questi sono quelli Scarichi Quindi non posso Ma questi Dovrebbero diventare Dei botanigist Inquel Facciamo Ricarichiamo anche Gli altri Perfetto E questi Invece Possono essere Ricaricati Penso Non con L'inchiostro Penso che Non si possano Più Ricaricare Con l'inchiostro Bensì Con il Mana Quindi Sì Sono veramente Degli strumenti Perfetti Per noi Perché abbiamo Già La botania Attiva E la nostra Produzione Di mana Qui va Benone E quindi GG Facciamo diventare Anche questi Dei Botanigist Inquel E poi possiamo Tornare Nella nostra Area Tunk Che Al resto Ragazzi Ho appena entrato Volevo fare La prossima cosa Cosa volevo fare In questo episodio Per un po' Concluderlo Era una farm Di sugarcade Ma ho appena trovato Che qui Se polverizziamo Del legno Ci darà Della Soudast E questa Soudast Combinata Con Un Secchio D'acqua Quindi Bucket Ce l'ho Nella borsa Ci darà Della carta E è una cosa Che non ho mai Visto prima fare E voglio Automatizzare Perché ovviamente Noi automatizziamo Tutte le cose Quindi facciamo Così Facciamo così E così E vedete che mi dirà Due pezze di carta E mi darà Il secchio vuoto indietro Allora Come possiamo automatizzare Una cosa del genere Che richiede Un secchio d'acqua Come crafting Diamo il benvenuto Al nostro cyclic assembler Allora Che cosa ci servirà Per craftarlo Un machine frame Un thing gear Un due Tre thing gear Due copper gear Check Uno di questi Check E basta Per un machine frame Check BAM Ciclic assembler Allora Dove lo mettiamo Lo mettiamo qui dentro Perché no Facciamo qui La nostra automatizzazione Della carta E allora Intanto avviamo Il nostro cyclic assembler E vedete che È una cosa Che può craftare Delle cose Adesso ci servirà Una schematic Quindi craftiamoci De una schematic Schematic Boom E poi Prendiamo il nostro secchio D'acqua E settiamo La nostra schematic Per craftare Quello che vogliamo Quindi Prendiamo Oh madonna Prendiamo Della cosa Qui Della sodas E settiamo Come crafting Nella schematic Schematic Così E poi Così No Così Ma perché Non Ok Sino la schematica È settata Quindi se adesso Metteremo qui Della Della sodas Qui dentro E metteremo Dell'acqua Nel nostro cyclic Assembler Così Nella sua Ops Così Non si può Metterla da qui Ok perfetto Dovremmo pumpare Dell'acqua Nella sua tannica Interna E la utilizzerà Come se fosse Come si dice Come se fosse Un Un secchio Quindi Intanto diamogli Corrente E poi Attaccheremo L'acqua Ok ragazzi Perfetto Vedete che qui Ho messo due cose Di acqua Dopodiché Faremo così Toglieremo questo E qui si creerà Una fonte di acqua Infinita Perfetto Sopra di essa Ci metteremo Il nostro Transfer node Con Al suo interno World Interaction upgrade Ed ecco qui L'acqua Che verrà Pompata Direttamente Nel nostro Cyclic Assembler Ed ecco la carta Che verrà Assemblata Iuff Questa è un'automatizzazione Che ci sarà Molto utile Per i nostri Principi Tauncraftosi Ecco quindi Boom E vediamo Che con la Soldast Noi faremo Un bel po' Di carta 42 Ora creiamo Dell'altra Soldast E GG WP Siamo messi Molto bene Quindi Macelliamo Macelliamo Questo E buono Buono Perché abbiamo Tantissimo legno Del quale non sappiamo Cosa fare Quindi si E' un metodo Molto più facile Di fare la carta Che non utilizzare Le sugar cane Perché vedete Che bam 20 carte Subito E tutto dal legno Quindi si Ve lo consiglio altamente Se volete Creare Una farm Di carte Insomma Se volete Le sugar cane Per la carta Se poi vi servono Per altri motivi Sì Ovviamente Non potranno Rimpiazzarla Però Vabbè Forse ci potrebbe Fare un meccanismo Con l'uncrafting table Della forestry Per fare la carta Con queste E poi Uncraftarla In sugar cane Però E' tutto un casino Ok Quindi Adesso Io andrei A ricercare Un bel po' Di cose Dato che Ormai Abbiamo Tutto Si fatto Molto bene Quindi Scandizziamo Già che ci siamo La carta E Metallo Metallo Vabbè Metallo E poi Andiamo Vediamo Lumber block Scanalizziamo Tutto quello che possiamo E Bella Torniamo Torniamo Appunto A ricercare Ok ragazzi Ho appena notato Che questi Botanurgist In quell Non sono considerati Scribing tools Quindi non possiamo Ottenere le ricerche Con loro Perché per farlo Ci servivano Proprio degli Scribing tools Questi Insomma Ecco Quelli Originali Quindi Purtroppo Non possiamo Utilizzarli E Li metteremo Qui dentro Perché sono Inutili Ora Al momento Li utilizzeremo Sicuramente Sul nostro Tavolo Però qui Sono inutili Quindi Wait a second Forse non sono inutili Forse ho capito Perché nemmeno Nel tavolo Funcionano Ma credo 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 Che Non li abbiamo Caricati Wait a second Vediamo Se adesso Io metto Questo con Sparing mana To items E getto Questi qui Aha Era questo Il problema Allora Vediamo No Non sembra Cambiare nulla Eppure Credo sia Questo il problema Si vedete Che sembra Che si stiano Caricando Proviamo a vedere Se era questo Il problema Andiamo sotto E vediamo Zrup 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 Se adesso Funzionano Quindi Entriamo qui Ok Si si Allora era Quello il problema Allora non sono Inutili Sono inutili Questi che ho Portato di nuovi Che casino Allora saliamo Perché proviamo A farmi provare Un'altra cosa Allora Prendiamo questi Buttiamo via questi Saliamo E proviamo A fare una cosa Ovvero Gettarli E poi riprenderli Velocessivamente Quindi a fare così E poi a riprenderli Subito Ok no Non ci lascia Infatti si sono già caricati Quindi yeah GG Et Boom Ragazzi Abbiamo ricercato L'infusion crafting E questo aprirà La nostra strada Per un sacco Di nuove cose Della towncraft Perché questa è una Delle meccaniche Più base Che Possiamo fare Per craftare Delle cose E però È anche allo stesso tempo Molto 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 Fantastica But Prima di Cominciare Ad infusare Infondere Cose Voglio fare Delle altre ricerche E poi ci vediamo Ok ragazzi Stavo ricercando E boh Un fallen knight Mi arriva da dietro E mi fa il culo Ad ogni modo Voglio fare Un'ultima cosa Prima di chiudere L'episodio Che vi sarà utile Ricercare Vediamo se è ancora lì Il bastardo No Eccolo Tua mamma puttana E No Ti conviene Levarci dalle palle Perché Dove cazzo È la mia spada Ti conviene Levarci dalle palle Ok Perfetto Allora Ok stavo dicendo Allora Possiamo prendere Un tipo di shard E metterne 6 Per creare Dei crystal Clusters Questi sono Molto utili Perché ci permetteranno Di creare Delle cose Cioè non di creare La verità Ma di fare Delle cose Che ci saranno utili Ora vi faccio vedere Allora Se sapete già Come funziona La ricerca Sapete che Per farla Dobbiamo avere Insomma Degli aspetti E combinarli Come vi ho fatto Abbastanza vedere Prima Però Dopo un po' Gli aspetti Ovviamente finiscono Perché ne abbiamo Un numero limitato E se noi mettiamo Delle cristalli Intorno Al nostro research table Come sto facendo Potranno Potranno rigenerarci Degli aspetti E così A random Adesso vi faccio vedere Faccio così Perfetto Sì adesso io questi Li metterò qui così Tutto intorno Tipo così 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 Vedete che Ora degli aspetti Sono accesi E questi Pian piano Soprattutto ordo Perché l'ho fatto Perché mi sono accolto Che l'ho finito Questi intanto Sono solo i primers Però poi ne faremo Anche di più Vedete che questi cristalli Si stanno Scintillando Vuol dire che stanno Rigenerando Degli aspetti Per noi Quindi GG Ok Back to research Et voilà Questa è una delle Ultime ricerche Che voglio fare Per oggi Ed è Master node tapping Et voilà E E poi voglio fare Anche node preserver Ora che ci penso Quindi facciamola Velocemente Ok Non ho più tempo Per oggi Per concludere Questo episodio Ad ogni modo Nel prossimo Continueremo Un po' A fare cose Con la towncraft E arrivare Fra uno o due episodi Ad avere questa base Bella attrezzata E completa Per le nostre Esigenti Towncraftose Ma per intanto Per questo episodio È tutto Io vi ringrazio Per la visione Vi rimando Il prossimo video Che caricherò E Ciao ragazzi Wow Boom